Tre anni fa aveva fatto impazzire il Sundance grazie a Precious, quest'anno proverà a fare altrettanto con The Paper Boy al Festival di Cannes. Con il suo ultimo film, incentrato sulle indagini che vertono attorno al caso di un uomo che sta per essere condannato a morte per aver fatto fuori uno sceriffo razzista, che a sua volta aveva ucciso ben 16 neri, Lee Daniels è certamente tra i più attesi sulla Croisette, anche perché è accompagnato da tante star, tra cui Nicole Kidman, oltre a Zac Efron, al suo primo vero ruolo impegnato, John Cusack e Matthew McConaughey. Il film ha diviso la critica in sala, ma ha tante scene forti di cui si parlerà a lungo, a cominciare da quelle in cui Nicole Kidman fa pipì su Zac Efron appena punto da una medusa. Li non ha detto nulla per convincermi a fare il film, ha raccontato Nicole Kidman. Avevo visto Precious e tanto mi è bastato. La sceneggiatura l'ho letta tutta ad un fiato di notte e il giorno dopo l'ho chiamato e gli ho detto ci sono. Dal canto suo Daniels ha voluto sottolineare la profonda complessità dei personaggi del film, ispirato ad un thriller scritto da Pete Dexter. Sono tutti parte della mia vita, dirò di più, ha concluso il regista. Ho fatto il film proprio per immergermi nel mio passato. Anche la seconda opera in concorso è un dramma, ma si sviluppa su registri e temi molto differenti. Post Tenebras Lux, diretto da Carlos Regadas per la terza volta in concorso a Cannes, è la storia di Juan, che vive con la sua famiglia nella campagna messicana, dove la vita è molto diversa da quella che si fa in città. È proprio il confronto tra questi due mondi il tema sul quale si concentra il regista messicano in un film poco accessibile che concede poco allo spettatore a causa anche di alcune scelte stilistiche discutibili. Capisco che gli spettatori possano essere confusi, ha spiegato in conferenza Regadas. Nel racconto ci sono salti temporali, si fluttua nel sogno e nell'immaginazione, ma è la vita ad essere così e il film scorre come un fiume. Sento il bisogno di trasformare tutto quello che vedo. Fuori concorso viene presentato il primo film d'animazione di Patrice Leconte, The Suicide Shop e l'interessante documentario The Central Park Five, diretto da Ken e Sarah Burns insieme a David McMahon. Il film di Leconte, nonostante il tema indiscutibilmente dark, è adatto anche ad un pubblico di bambini oltre che di adulti ed è atteso prossimamente in Italia distribuito da Videa. È la storia di due coniugi che gestiscono una bottega in cui vendono tutto ciò che occorre per farla finita. E gli affari andrebbero anche bene se non fosse che il loro figlio più piccolo è talmente ottimista e solare da diradare il target di clienti. Le Central Park Five, invece, è il focus su una vicenda di cronaca che risale a più di vent'anni fa e nella quale rimasero coinvolti cinque ragazzi neri e ispanici che vennero arrestati con l'accusa di aver stuprato e picchiato una donna a Central Park a New York. Dopo una procedura discutibile, i ragazzi vennero condannati ed hanno scontato pene tra i 6 e i 13 anni di carcere, ma qualche anno dopo furono scagionati dalla confessione di uno stopratore seriale che si attribuì la responsabilità del crimine. L'opera è una buona ricostruzione del caso, con testimonianze dei condannati e di chi ha seguito la vicenda all'epoca. Si resta ancora negli anni Ottanta, ma in un contesto meno difficile cupo, con Miss Lovely di Ashima Luvalia, che oggi viene presentato nella sezione Uncertain Regarde. In solito noir targato Bollywood, con alcuni momenti riusciti ma una sceneggiatura in cui non mancano incongruenze, il film è la storia di due fratelli di Mumbai, Vicky e Sonu, che nel decennio più colorato e pop del secolo scorso aprono una piccola società di produzione di film horror, contando sulla complicità e l'affetto che li ha sempre uniti. Il loro rapporto però verrà messo a dura prova quando la conturbante Pinky farà breccia nel cuore di entrambi. Nella stessa sezione viene presentato inoltre il francese Tromond di Catherine Corsini, un dramma che si evolve intorno ai destini di tre persone che saranno rivoluzionati da un incidente stradale. Film è tesissimo, quello della Corsini, che fin dalle prime sequenze lascia senza respiro gli spettatori, grazie alle interpretazioni degli attori e ad una sceneggiatura in grado di dare valore a ogni punto di vista dei personaggi, senza giudicare le loro azioni.